Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ho ancora in sala, ho appena mangiato la crema catalana, la polenta, la calciccia, ho mangiato solo quello di crema catalana. Adesso stiamo sparecchiando, c'è un sacco di gente ragazzi, non so come faccio ma c'è un sacco di... Basta, se non vedi che non viene bene, quella era una sconosciuta che non riconosco. Sono Sabrina, sono sorella. No, non è mia sorella, è una sconosciuta, perché io sono quella lì della casa. Questo qui è un altro sconosciuto, io sono quella lì della casa, l'ho sconosciuta anch'io. E allora... Questa è mia madre! Saluta! Saluta! Ciao! Ciao a tutti ragazzi, abbiamo appena finito di sparecchiare. papà, papà, papà non vedi... papà, dunенко... papà, sopia di denado? Comunque, io adesso vedo qui. Io voglio wirla rompe le palle. Saluta! Ciao 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 Abbiamo un po' Buona 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 E come qui è?